L'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, una giovane di 29 anni incinta di 7 mesi, brutalmente accoltellata dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, verrà eseguita questa mattina. Sarà un team di esperti di medicina legale, incluso il rinomato professore Andrea Gentilomo, a condurre l'esame al fine di gettare luce sulla dinamica del crimine avvenuto in Via Novella. Ieri pomeriggio, i pubblici ministeri e le forze dell'ordine si sono riuniti per formulare una serie di interrogativi volti a svelare i dettagli che circondano la tragica coltellata che ha portato alla morte di Giulia. Si cercherà di stabilire se vi siano circostanze aggravanti, come la presenza di crudeltà evidenziata dal numero di ferite inflitte dopo la morte della giovane donna. Inoltre, si proverà a determinare se l'autore confessato abbia mostrato particolare violenza verso il feto non ancora nato, Tiago, e a individuare l'esatto momento in cui il cuore del bambino ha smesso di battere. Questi elementi potrebbero amplificare l'orrore già presente in questa tragica vicenda e potrebbero influenzare in modo significativo le accuse rivolte all'indagato. Al momento, non è possibile stabilire con certezza quale colpo abbia causato la morte di Giulia o il numero totale di coltellate inflitte. Un'ipotesi suggerisce che la giovane possa essere stata colta di sorpresa e colpita alla gola, il che potrebbe spiegare perché nessun vicino abbia sentito le sue grida. Inoltre, gli investigatori ricordano che l'indagato ha cercato due volte di bruciare il corpo della compagna, utilizzando alcol e benzina. Prima di abbandonarlo avvolto in cello fanno i sacchetti di plastica in via Monterosa, a meno di 700 metri dalla loro abitazione. Ai medici sarà richiesto di effettuare anche esami entomologici al fine di determinare non solo l'orario della morte, ma anche se i movimenti indicati da impagnatiello, dal garage alla cantina fino al ciglio di una strada, siano compatibili con lo stato di conservazione del cadavere. Si presterà particolare attenzione anche agli esami tossicologici per escludere definitivamente la possibilità che il veleno per topi trovato nello zaino dell'uomo sia stato somministrato alla vittima senza il suo consenso. Oggi stesso sono attese le prime risposte parziali, ma il lavoro degli esperti sarà lungo e complesso.